siamo in diretta oggi non vedete una pianta non si vedono piante oggi oggi vedrete la mia faccia è così ecco ecco il primo ecco il primo allora ciao a tutti ciao ragazzi ciao mirko ci vediamo dopo allora misurato il ph 72 e alto valerio giannini e alto assimili male il ferro quindi hai avrei problemi di clorosi ferrica quindi già l'invento delle foglie ma non è solo una questione di cromatismo fogliare è proprio una questione che essendo gialle non fotosintetizzano quindi come puoi vedere la clorofilla non ha il suo colore verde ok quindi il colore delle foglie è un indice della quantità della qualità della clorofilla ok quindi foglie gialle perché hai il ph un po troppo alto quindi manca ferro ma soprattutto è come una persona quando una brutacera si dice stai male c'è qualcosa che non va è così quindi abbassalo tra 6 e 2 6 e mezzo 6 e 8 per le conifere perché riescono a similare il ferro cioè non hanno necessità di grosse quantità di ferro ma questo perché perché le conifere comunque hanno un accrescimento più lento rispetto alle latifoglie e quindi hanno bisogno di elementi in quantità più ridotta se andiamo anche a vedere crescono in posti impervi in posti dove c'è meno acqua tanto sono più lente quindi sono adattate a quell'ambiente lì invece le latifoglie è una carenza come l'altro giorno si parlava proprio di bagolaro bagolaro è una velocità è una pianta velocissima nella crescita e quindi mangia tantissimo carenze le carenze nel terreno le tele tele indica immediatamente proprio perché è veloce se non se non ha tutte le sostanze non fotosintetizza bene quarte se l'osservazione è sempre alla base di tutto buonasera antonio attilio ciao vincenzo ciao assunta e insomma oriana allora ciao simonetta valerio in effetti per alcune piante ho questo problema è certo se noti sono le piante con un metabolismo più veloce è tutto è facile e faccio tutto ragionamento antonio piros percentuale di aceto e no serve ph metro serve ph metro percentuale di aceto te la posso dire io faccio goccia a goccia adesso non lo sto facendo perché ho l'acqua di rete a sei e mezzo che non fa non la faccio sono a posto così in più se fai fertilizzazione l'aceto lo devi aggiungere per ultimo perché se utilizzi un concime organico già ti abbassa il ph dell'acqua ok poi magari è la prima sono le prime dell'anno quindi aggiungi acidi umici e abbassano il ph dell'acqua quindi alla fine che infatti si è fatto i tuoi mille litri 500 100 litri di soluzione fertilizzante allora la misuri e abbassi sino a livelli ottimali 6 e 268 facile presa diretta devi devi capire se il ph è costante e ti serve o un dosatore e costa parecchio oppure un tubo venturi costa poco però la cosa migliore sempre sempre serbatoio sempre puoi piazzarne diversi da 100 litri è l'unica maniera ma ditemi un po riviste guide sulle margotte vi sono arrivate a qualcuno è arrivata perché io oggi ero pronto cioè da ieri ero pronto a spedirne 30 ce li ho a casa pronte però sinceramente voglio capire se arrivano perché se c'è qualche problema non le consegnano per qualsiasi tipo di problema cerco un po di capire quale sia prima di spedirne altre 30 ok solo per questo perché ne ho spedite o circa 25 a qualcuno è arrivata fatemi sapere andrea orsi andrea orsi facciamolegliela fare questa serra dall'altalena e si aggiungono dei tubi si aggiungono dei legni si può fare tra l'altro quella è una struttura fortissima regge tutto ciao federico o ph 7 per un pelo se riesce abbassarlo un po riana meglio tu simonetta noi no ecco scritto niente io niente sto aspettando a spedire le altre perché la prima tranche l'ho spedita tre giorni devono arrivare quindi vediamo sono pronte federico nessuno nessuno sono arrivati allora oggi se notate il primo il primo post che c'è sul gruppo bio bonsai vi ho chiesto di leggerlo sono sicuro sono sicuro che pochi di voi lo abbiano letto invece c'è molto importante è la cosa più importante è una cosa fondamentale da capire molti mi dicono come fai a coltivare bio come fai qui come fai questo come fai quell'altro però quando c'è da leggere qualcosa avete visto 70 pagine ma alla fine era solo da vedere la parte iniziale e la parte finale quindi tre bagine pragi paginette nessuno o pochi forse 45 lo hanno letto forse è molto importante capire mi serve piaciuto no non è questione che io sia isola sono poste e non è non pensate che siano le poste perché hanno consegnato anche in periodo di kovid erano le più efficienti quindi tanto di cappello le poste perché stanno lavorando e hanno lavorato benissimo benissimo devo dire quindi nessuna critica anzi anzi hanno fatto un gran servizio durante il covide ve lo garantisco perché mi è capitato di spedire qualcosa o chiedere anche non sono fermati ci siamo fermati noi per spavento invece loro sono hanno lavorato abbastanza bene l'unica cosa che periodo di covide le tenevano tenevano la corrispondenza 15 giorni in quarantena prima di consegnare quindi anche lì hanno usato la testa allora quell'articolo che c'è e parlava di uno studio che è stato fatto nel viterbese dove ve la riassumo io dove si sono state monitorate più di 20 aree di macchia diciamo così mediterranea quindi lecci sughere e altro lentisco pino po di tutto è arrivato il mirto dicendo una cosa importante non si può non si può dove venivano monitorate delle zone e sono ci sono stati degli anni in cui hanno monitorato piante morte piante usando i loro termini con parassiti con malattie varie quindi cercando di capire la moria delle piante cercando di capire come mai fossero prendessero i parassiti ma cercando di capirlo da una base secondo me sbagliata da un punto di vista sbagliato leggete velo leggete velo quella fare lì perché non non troverete nulla di strano se non che è l'ultima frase dove si dice che comunque nonostante abbiano notato presenza quasi totale nella totalità degli alberi c'era presenza di parassiti li chiamano parassiti o malattie io non la vedo così o insetti fitofagi alla fine proprio l'ultima riga andate a leggerla situazione normale c'è scritto che nella norma sapete cosa significa questa ecologia ragazzi ecologia perché facciamo bonsai perché fate bonsai che vi piace la natura perché usate veleni perché non capite niente della natura abbiamo usato i veleni perché non capivamo nulla della natura nulla dei processi naturali nulla del ciclo naturale della vita ok adesso abbiamo visto delle foto marciapiedi durante il covid pieni di papaveri fioriti piuttosto che poche cervi cinghiali c'era di tutto marciapiedi dopo il covid carichi carichi di guanti e mascherine lanciati ovunque ok l'altro giorno sentivo un papà che diceva alla propria figlia piccolina diceva ottima questa medicina che abbiamo usato nel cortile ha ammazzato subito tutte le formiche mi sono venuti brividi i brividi abbiamo capito nulla nulla allora ragazzi io ho piante dove osservo presenza di uova di cocciniglia e quella lanugine bianca e non mi preoccupo per niente perché perché sto coltivando bene perché è la primavera e tutto si riproduce piante animali di qualsiasi genere tutto si riproduce quindi io non mi spavento le mie piante crescono anche se c'è un po ci sono un pochino di uova di cocciniglia quando il rigolo la pompa pressione ci dona la vattina cade tutto a posto a posto dove vogliamo andare cosa cosa dove vogliamo andare chi pensiamo di essere oggi sono così perché non va bene proprio non va bene amate la natura perché usate veleni perché li usi non lo so non veramente mi dispiace molto questa questa cosa qua addirittura c'erano periodi in cui la forestale spruzzava gli insetti cd con gli aerei fuori di testa fuori di testa non va così non va non funziona così ho fatto questo blu gruppo affinché chi sta dentro il gruppo innanzitutto si cresca al più possibile ma che poi questo messaggio possa essere espanso ovunque perché chi fa bonsai noi che facciamo bonsai anche io che ho fatto iniziato quando iniziato a far bonsai iniziato a far bonsai per ego per far crescere mio ego per dire guarda quanto so bravo faccio bonsai me la posso tirare questo è il bonsai sta medio che se la tira perché fa bonsai non funziona così devi far bonsai perché devi perché ami la natura e devi farla amare agli altri che funziona solo così solo così ciao a chi ha detto ciao egno valerio giannini senza forse valerio giannini l'unico essere parassita nel pianeta terra e l'uomo semplice perché prende senza dare guarda sta a vedere le cave no quando c'è una cava si vede il vuoto hai preso ma non hai dato funziona tutto così a io salvo campisi togli le togli le con un getto d'acqua è semplicemente la primavera anch'io su qualche pianta la ho no molta poca roba non è preoccupante ce l'ho su magari su una chioma gigantesca ce l'ho sul 10 per cento anche meno sul 5 per cento della chioma forse anche meno è la loro natura si devono riprodurre natura tutto serve hanno la loro funzione ragazzi quelli che noi chiamiamo parassiti in genere la cocciniglia i pidocchi sono dal mio punto di vista sono fito regolatori fito regolatori se ragioni così capirai tutto c'è bisogno di bisogna capire la loro funzione fito regolatori e maurizio valenti io io ho smesso di smesso di usare fito farmaci da più di cinque anni ma ti dico che nella mia vita ho fatto tanti giardini ne ho fatti più di 300 forse 350 giardini io ho iniziato all'età di 22 anni a fare giardini e non ho mai usato prodotti mai i proprietari dei giardini raccoglievano il corbezzolo il mirto per farsi liquore le bietole se nascevano qualsiasi cosa le aromatiche faccio piantare le aromatiche pianto le aromatiche vicino al barbecue c'è un po di cocciniglia certo la parte in ombra non fotosintetizza cocciniglia fa il suo dovere perché se voi notate se non girate spesso una pianta la parte che sta in ombra ci va la cocciniglia sopra perché da una mano alla pianta finché lei alla natura finché quella parte venga lasci spazio alle parti più vitali e allora cocciniglia da una mano alla pianta quasi quasi la pianta che le chiamano c'è tutto un sistema per cui i parassiti vanno solo sulle piante malate o che non fotosintetizzano bene o le parti in ombra che non fotosintetizzano e così funziona quando vedo una parte una pianta in natura cerco di capire sempre morta cerco di capire sempre come mai sono molto curioso ci stiamo uccidendo con le nostre mani ma guarda simonetta alla natura di noi non gliene frega proprio nulla nulla perché se il genere umano si estingue la natura continua andare avanti quindi il problema è assolutamente nostro assolutamente nostro io guarda se ci estinguiamo sono felice felice felicissimo tanto a che serve la nostra vita se se poi non lasciamo niente di buono a mio figlio se non lascio niente di buono a mio figlio a che serve la mia vita quando abbiamo sentito sta frase con mio figlio l'altro giorno questa medicina è buona mio figlio detto beh se è così buona quel signore diciamogli anche di berserla un po è buona perché non se la beve non può essere non può essere sono molto serio oggi molto serio o sto mirto dei prende i bicchieri prende i bicchieri perché altrimenti passa davanti alla telecamera e michele dove michele e timido il mirto a noi ci beviamo un mirto è buono e biologico mirto quando mai ti amichi lei spruzzato gli insettici l'antico ciniglia nel mirto prima raccogliere bacche no se no senza l'antico ci senza l'antico ciniglia non è buono viene buono giovani giammetta benvenuto ma è così semplice allora ho una piccola collezione di piantine di compagnie annuali che ora fioriscono daniele manini bene ortica no non è una questione federico battelli allora non ci svedete non ci si capisce perché la nostra mente pensa sempre cosa posso dare non devi dare nulla cosa posso fare dove sto sbagliando salute 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 al pianeta terra è buono salute buonissimo buonissimo quindi non è una questione cosa posso dare cambia prede bisogna resettare dove sto sbagliando oppure sto sbagliando no non sto sbagliando quale siamo sta esplodendo tutto ci sono fioriture c'è di tutto quindi tutti gli esseri viventi questo momento si riproducono effettivamente io cocciniglia non ne ho non ho cocciniglia o le uova è diverso non ho pidocchi non ci sono pidocchi non ho altro non ho altri problemi è chiaro ci sono un po di uova visibili cocciniglia no in più se non utilizzo fitofarmaci tanto non vedo neanche coccinelle ma questo proprio perché non ho parassiti è tutto derivato da quello che faccio principalmente dentro il vaso e perché piano piano ho imparato anche a irrigare irrigare oggi ho accettato un post dove si diceva sto ragazzo neofita che lui aspetta ad irrigare affinché aspetta di irrigare quando il terriccio è completamente asciutto magari o mai no non funziona così allora io aspetto a bere sinché non sono completamente disidratato e no non funziona così allora è semplice spiego la differenza è molto semplice e se noi riuscissimo a mantenere una umidità del terriccio intorno tra il 60 e 80 per cento va benissimo per le latifoglie invece per le conifere va bene intorno al tra il 50 e il 70 per cento di umidità dentro il terriccio dove ovviamente 50 al minimo quando tu ieri diventa una cosa quando tu ieri diventa al cento per cento ma dopo un'oretta se il terriccio giusto ritorna su valori ottimali di crescita quindi intorno sempre intorno al 70 per cento di umidità 70 80 ok quindi se noi abbiamo un salice e l'umidità è bene che non scenda sotto il 90 per cento umidità del terriccio altro che aspettare che sia completamente asciutto non funziona così claudio albanese non ci siamo liquido gin come antiparassitario è naturale capitolo puoi usare allora se io io ragiono così ho solo liquido gin e non lo uso da due anni sono due anni che non usano liquido gin quindi anche quello però può essere che tu abbia dei parassiti capisci qual è il problema dove stai sbagliando e per agevolare un po sia la presenza eliminare la presenza dei parassiti perché caustico li brucia sia per eliminare le uova eventuali usi liquido gin ma non prima di aver capito il problema è chiaro io una volta avevo ginepro quello grosso che avevo venduto poi sicilia la velona e c'era una parte bassa del ramo basso con i pidocchi solo nella parte bassa ma il problema principale era che lo tenevo in una zona troppo calda quindi quel periodo ancora utilizzavo il liquido gin per aiutarmi niente ho spostato la pianta nella zona un po più fresca rieggiata ho spruzzato un po di liquido gin per eliminare i pidocchietti ma erano pochi giusto per essere sicuro pianta importante ho risolto il problema quindi ho capito prima quale fosse il mio dove io stessi sbagliando quel cotone appiccicoso salvo campisi sono uova un getto d'acqua forte le togli e le togli ma si oriana ma quando mai diserbante ma lasciamo perdere grazie sergio grazie sergio e sapete che facevo io questo importante su questo che sta dicendo sergio sapete che facevo io sono stato fortunato perché sono nato con una determinante determinato processo mentale che mi fa ragionare sempre in due direzioni diverse allora e quando io leggevo delle cose mi informavo facevo una cosa facevo quello che c'era scritto quello che mi veniva detto da un esperto ma facevo anche il contrario ok facevo anche il contrario è spesso e volentieri facendo il contrario scoprivo un sacco di cose importante questo zanzare bo adesso sembra siano sparite c'erano qualche giorno fa e zanzare c'è chi ha messo le ho visto avete messo le casette per le coccinelle se hai affidi hai un pochino di problemi sul terriccio sicuramente capito quindi va bene le coccinelle però occhio salute simonetta ti piace simonetta mirto discorso e molto bisognerebbe fare tanti approfondimenti faccio una domanda bonsai di agrumi non ho fatto bonsai di agrumi però ti dico una cosa ho un signore mio amico più più che amico ha un limone che produce una quantità assurda di di frutti e non riesce a consumarli e allora comunque gli ho suggerito di di macinarli nel terreno sotto limone stesso sta benissimo la pianta restituisce la sostanza il mirto disinfetta federico godzilla va alla grande godzilla va di brutto grande franco messina campai giovanni michele sta guardando liquido gina al 10 per cento no troppo troppo liquido g va bene ha presente tappo delle bottiglie un tappino in due litri tappo della bottiglia d'acqua antonio pira si liquido gin e polisolfuro di calcio quindi nella nella molecola a ne ha diverse di zolfo e una di calcio più o meno più o meno ti ho detto non me la ricordo bene la per così no c'è anche il calcio egno polisolfuro di calcio fervigan non so cosa sia fervigan io ormai non conosco più i prodotti conosco quelli che si utilizzavano una volta non ne ho non so neanche i nomi non non li conosco più non fortunatamente questo un buon prodotto e quando viene michele andiamo a vedere godzilla le piante che ho allora il mirto che avevo portato fuori l'ho rimesso dentro perché non gli andava tanto afflosciava le foglie non si è rovinata neanche una foglia lo sai micchi era tre giorni con le foglie afflosciate ho detto questo le perde tutte diventano già le muoiono invece l'ho messo di nuovo nella serra subito tempo due ore era perfetto arzillissimo e non lo so sicuramente devo defogliarlo completamente provo a defogliarlo completamente e lo riporto fuori di sicuro non si afflosciano senza foglie e no c'ha le radici deve stare fuori si è viziato capito si è viziato salvo campisi vuole vedere anche la sua e ma dove la tua salvo penso non non facciamo così per favore fervigan natura lo stato puro dai giro la telecamera cresce crescerà sta germogliando anche dalla testa vedi anche qua dalla testa ha fatto un germoglietto quindi va bene cresce dai cresce e poi qua ho accumulato un po di materiali che non vi posso far vedere questo è il viburno ho preso un viburno bellissimo qui c'è il ficus che avevamo che avevo potato sta andando bene questi sono i lecci che avevo messo in vaso si vedono no è tutto un bel colore guarda poi lì c'è il questo è il mirto di enzino ha fatto germogli lunghi 30 centimetri carino no così e questo è godzilla e in sino non non portare sfiga ho messo simonetta non ce n'è tua e non c'è una pianta tua c'è anche quella di simonetta ma devo metterla in vaso ancora si simonetta mi ha chiesto una pianta speciale e quindi abbiamo trovato anche una pianta per sto pensando di sicuramente farò una sezione questa è carina e quando appena facciamo la app la scusa l'e commerce faccio una sezione per le femminucce perché voglio vorrei avere delle cose adeguate che piacciono senza una che sta a girare in genere sai piante troppo impegnative no ma se fanno un fiore non è male eh beh sì non avevi dubbi 30 centimetri di vegetazione ho visto che vi sto tutti vogliono fare serre adesso vi sto influenzando a chi più vanno a serra adesso le devo portare fuori la maggior parte sono andate ci sono show in che hanno un metro di ramo un metro guarda ma lo piace di giù e quindi vanno portati fuori vanno portati portati fuori eh sì è questo il mirto che avevo portato fuori